Il Teatro Rea, domenica 27 dicembre alle ore 18, ospiterà un convegno sull'ultima campagna di scavi subacquei condotta dalla Soprintendenza del Mare con l'ausilio del Gruppo Archeologico Finziade, diretto da Fabio Amato. Il convegno è organizzato dalla sezione locale della Lega Navale Italiana, dalla Soprintendenza del Mare, dal Gruppo Archeologico Finziade e con il patrocinio del Lions Club. Notevole la composizione del parterre, i relatori saranno il professore Sebastiano Tuse e Fabrizio Sgroi della Soprintendenza del Mare, i quali relazioneranno sulle ricerche archeologiche subacquee della Regione Sicilia. Per il Gruppo Archeologico Finziade prenderanno la parola il presidente Fabio Amato, Andrea Cannizzaro e Andrea Incorvaia che esporranno i risultati dell'ultima campagna portata avanti nell'estate appena conclusa, con la quale sono stati riportati a galla parecchi reperti. Previsti anche gli interventi dello storico della Seconda Guerra Mondiale Luigi Faletti, con la sua relazione sui ritrovamenti risalenti allo sbarco nel mare di Licata, e dell'ingegnere Rosario Bonvissuto del Lions Club che esporrà sugli aspetti connessi alla tutela del mare. Per la Lega Navale Italiana è invece in programma l'intervento del presidente della sezione locale, Giuseppe Coppolino. Il convegno sarà moderato dal giornalista professionista Angelo Augusto. Al termine dei lavori, trasferimento al Chiostro Sant'Angelo per l'inaugurazione della mostra temporanea dei reperti riportati a galla quest'estate.